Siamo con Davide Scazzieri che rappresenta il Comitato Italiano Paralimpico per quanto riguarda la sezione dell'Emilia Romagna ed è partner anche di questa prima Montecatone Paracycling. Davide, una gara che si pronuncia durissima quella di Imola. Sì, è dura per due motivi, per il livello degli atleti che abbiamo il piacere di ospitare e per la qualità dell'autodromo che ha una lunghezza di 4,9 km e le pendenze oltre il 9% sia in salita che in discesa. Abbiamo visto sfrecciare professionisti del ciclismo con il Giro d'Italia quest'anno, abbiamo il piacere invece in questo fine settimana di vedere i grandi professionisti dello sport paralimpico e paraciclistico che sfileranno in autodromo con l'handbike, con i tricicli, con i tandem e ovviamente anche con le biciclette normali. Com'è percorrere l'autodromo di Imola a bordo di un handbike? Sì, io lo descrivo per le sensazioni che ho avuto dai ragazzi perché non ho mai avuto il piacere, dico io, di gareggiare in handbike senza bisogno di essere paraplegico, perché questo, scusa la parentesi, è anche una delle proposte che si fanno sempre perché non gareggiare tutti in handbike, anche io e te, insieme a loro, così ci scappiamo sul campo quanto sono forti. Le difficoltà sono tante, anche perché in handbike gareggiano sia atleti paraplegici che atleti tetraplegici atleti che non riescono a stringere con le mani. Sono decisamente forti, le difficoltà le hanno sia in salita che in discesa forti loro quanto i ciclisti che spesso sono amputati. Che cosa serve per avvicinarsi, diciamo, a questa pratica e soprattutto quanto lo sport aiuta le persone con disabilità comunque a ritrovare motivazione e a ritrovare soprattutto una seconda vita, possiamo chiamare? Sì, guarda, le difficoltà sono le stesse, sia per un normo dotato che per un diversamente abile che poi diventa atleta invece che olimpico, paralimpico, giusto per dare significato a questi nomi, sono le stesse. Secondo me, dal mio punto di vista, da quello che ho capito, la difficoltà per gli atleti diversamente abili è vivere. Quando arrivano a fare sport ormai hanno superato tutte le difficoltà. La consideriamo, tu, per andare in bicicletta, che cosa devi fare? Ti vesti e vai. Per un handbikers ha molte più difficoltà. Io pratico tennis tavolo, ci sono atleti amputati in entrambe le braccia quando gli hanno chiesto come fai a giocare a tennis tavolo senza mani, senza braccia e hanno detto che la difficoltà è vivere, non gareggiare, non fare sport. È significativo che sia anche il Montecatone Rehabilitation Institute con la Fondazione Montecatone a dare vita a eventi di tipo internazionale come questo. Sì, è vero. È un istituto all'avanguardia dal punto di vista medico come ospedale. Però io ho trovato in tutte le persone che ho conosciuto all'interno dell'ospedale di Montecatone che non è un ospedale che ho frequentato perché non ho una lesione midollare nel mio handicap, ma ci sono grandi stimoli che ti coinvolgono. Come hai detto tu prima nella conferenza stampa, è un attimo entrare ed è impossibile uscire perché dopo resti coinvolto da questa grande macchina e hai voglia di contribuire, di collaborare per dare una mano a questi ragazzi a ritrovare quello che hanno per un breve periodo perso, quindi ritrovare il piacere di vivere, il piacere di fare sport e se loro sono contenti con se stessi, lo sono con tutti gli altri e noi in piedi non vediamo più nessuna differenza rispetto a chi l'è seduto. Allora diamo appuntamento a tutti. Lo ricordiamo che qui in Autodromo ci sarà un vero e proprio villaggio dedicato al paraciclismo. Avremo la possibilità addirittura di provare l'handbike con una pista realizzata qui nel paddock dietro. Ci sarà la possibilità di provare anche i nuovissimi tipi e modelli di ausili, ma soprattutto ci sarà grande agonismo. Non l'abbiamo detto prima, lo ricordiamo adesso, ci sarà anche Alex Zanardi. Sì, è un nome importante. Io ho vissuto con lui al villaggio olimpico-paralimpico che è lo stesso di Londra. È una persona che stimo come tutti gli altri, che ammiro come tutti gli altri. È chiaro che ha una visibilità differente, che noi, come sono io del mondo paralimpico, ringraziamo ringraziamo perché, a mio modestissimo parere, ben ci rappresenta. Perché è una persona positiva, verrebbe da dire in gamba, giusto perché noi vogliamo togliere qualsiasi barriera. A me piace molto. E come lui, però, a tutti gli altri. Vittorio Podestà, amico. Francesca, che abbiamo avuto oggi. Macchi, che è diventato un vero e proprio personaggio, perché è uno dei primi che ha cominciato a gareggiare in bicicletta senza una gamba. Ha battuto il record dell'ora. E tutti gli altri. Abbiamo Michele Pittacolo, che ha vinto di recente a Londra il bronzo paralimpico. Sono tutte persone che io stimo e ammiro. Abbiamo il piacere di avere qui con noi. Abbiamo il piacere di accompagnarle, di averle con noi a Montecatone, perché sono un ottimo esempio di vita, dei ragazzi simpatici con i quali ci si scherza e ride con molto piacere. Noi ringraziamo ovviamente Davide Scazzieri. Diamo appuntamento a tutti quanti. Autodromo di Imola, 29 e 30 agosto, con la prima Montecatone Paracycling.